Mi dispiace a suo padre? Poco, era convinto che avessi barato, continuava a dire Hai sicuramente barato, confessa cretino, è imbrogliato Ho giurato di no e mi ha picchiato perché secondo lui mentivo Mi dispiace infinitamente Edward Non deve, aveva ragione Grazie Grazie Ricordate, un paziente felice è un paziente tranquillo Le nostre scoperte hanno dato vita a dibattiti sulla possibilità che le psicosi siano neurotossiche o che le alterazioni potenzialmente dannose per il cervello siano correlate alla durata degli episodi psicotici Il progetto Titan ci permette di rafforzare la capacità individuale a far fronte alle alterazioni All'inizio i risultati erano promettenti ma è stato l'arrivo del paziente X a dare slancio alle nostre speranze Il paziente X ha convinto tutti ad adottare il metodo Titan su ampia scala Dobbiamo ringraziare i nostri benefattori per questa opportunità Abbiamo tutte le specialità mediche e siamo in grado di offrire un'ampia gamma di programmi medici, chirurgici, diagnostici e di benessere La qualità del trattamento e le comodità di Arkham hanno fatto in modo che la nostra struttura diventasse la migliore della Stato Da noi i tempi sono cambiati Siamo sicuri di comodità di Archi quindi grazie alle nostre tecniche andavano a guardia Benvenuti alla ricombia di Arkham Il nostro personale è pronto ad aiutarti Quando Abadeus Arkham fondò questa istituzione Pagno immaginato Il nostro grande centro di attenzione di attenzione psichica Pagno immaginato click Si accettano i pulsi dalle assicurazioni Il nostro sito qua il polvere è tipo di informazioni relative alla struttura e ai metodi di comodità Vi sapevate che l'area del sito dedicato ai Profili Impebra Siち Field Beh è piaci… beat busta Grazie.